Un piano di studi ci aiuta perché i buoni propositi sappiamo bene che fine fanno, rimangono tali. Se al contrario abbiamo un piano di studi, probabilmente il risultato che otterrò sarà un po' diverso, no? Perché ho un piano da seguire e quando c'è un piano le cose vanno sempre in maniera diversa. Noi all'interno del programma di English for Life abbiamo realizzato quello che si chiama il diario di viaggio che dice ai nostri studenti esattamente che cosa fare giorno dopo giorno, dal giorno 1 al giorno ultimo del loro programma che chiaramente dipenderà dal tempo che dedicheranno al percorso. Potranno essere 45, 75 o 90 giorni a seconda del tempo che investiranno nell'inglese giornalmente. E questo diario di viaggio è estremamente utile perché ci aiuta a capire esattamente ogni giorno che cosa devo fare. Perché mi sono attrezzato, mi sono iscritto al programma, ho uno strumento per memorizzare perché il nostro programma è l'unico programma che lo offre, per questo è stato anche premiato. E infine ho anche un'organizzazione dello studio. Ecco che tutto torna.